Non riuscire a portare a termine il lavoro che avete visto oggi e riuscire a sfilare qua questa mattina è stata una delle cose più faticose che abbia mai vissuto in 35 anni. Eppure stavolta è stato veramente, veramente difficile e penoso. Mi ringrazio di essere venuti così numerosi, così tanti e di averti fatto per noi un po' la nuova cosa. Bravo! Un disgraciato, indiquente, che si sfascia, che giornalista, che frequenta, che signate, che ai miei frequenta anche Altarone. Ci ha fatto degli esposti, una marea, una marea di esposti. Vieni con noi, è cavolo. Abbiamo combattito tanto, lo presti, dov'è? Grazie, grazie! Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti.